In Sardegna, come nel resto d'Italia, la campagna di vaccinazione anti-Covid è condizionata ai ritardi delle consegne delle dosi da parte della Pfizer, una circostanza che sta creando notevoli preoccupazioni a livello governativo, perché il rallentamento nell'approvvigionamento della consegna delle dosi rischia non solo di ritardare i tempi di conclusione della campagna vaccinale, ma anche di inficciare la stessa validità della profilassi. Questo perché, per essere efficace, il vaccino della Pfizer, così come da protocolli approvati dall'EMA, l'ente europeo del farmaco, La seconda inoculazione deve essere effettuata a 21 giorni dalla prima. In Sardegna, dopo un avvio al rallentatore, le vaccinazioni procedono con celerità. Stamattina alle 8 risultavano inoculate 26.043 dosi su 33.330 consegnate. Col 78,1% di dosi inoculate, la Sardegna si colloca al decimo posto a livello nazionale. L'isola ha deciso di utilizzare la riserva del 30% delle dosi per le seconde inoculazioni, ma senza lo sblocco delle consegne da parte della Pfizer, presto potrebbe bloccarsi la procedura. Sul fronte vaccinale, in Sardegna, ci sono anche altri problemi da risolvere, a cominciare dai circa 200 no-vax licensiti tra gli operatori sanitari regionali, una cinquantina dei quali in servizio nella sanità nuorese. Una questione spinosa da affrontare con decisione non appena ci saranno dosi sufficienti per coprire tutto il personale della sanità a Sarda. Altro fronte aperto è quello giudiziario, dopo un'esposta alla magistratura da parte di un operatore sanitario sulla procedura di inoculazione attuata in Ogliastra. Le associazioni dei pensionati intanto iniziano a manifestare preoccupazione sullo slittamento delle vaccinazioni delle categorie fragili. È il caso dell'ANAP pensionati di Confartigianato Sardegna, con una nota firmata dalla Presidente Paola Montis, che chiede che si faccia in fretta per evitare altri morti. In questa situazione riteniamo necessario che si faccia innanzitutto il possibile per reperire sul mercato altri vaccini validati, anche se ciò comporterà una spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista. In secondo luogo, chiede che si riveda il piano vaccinale nel senso di accelerarlo, quando sarà possibile ripartire incrementando i centri di somministrazione e aumentando il personale dedicato. Grazie a tutti.